E' in corso a Bologna Eima International, l'esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio. Tante le imprese pugliesi che partecipano alla fiera. Alba di Palo. 1.350 industrie espositrici, 40.000 modelli in 14 settori di specializzazione e 5 saloni tematici. Sono i numeri della 44esima edizione di Eima International, l'esposizione internazionale delle macchine, delle attrezzature e della componentistica per l'agricoltura e il giardinaggio, in corso a Bologna fino al prossimo 23 ottobre. Un appuntamento organizzato da FEDER Una Coma, la federazione italiana dei costruttori delle macchine per l'agricoltura, in cui sono protagoniste anche 350 imprese estere provenienti da 40 paesi. Siamo di nuovo in presenza in Eima, dopo tre anni di assenza. Finalmente possiamo rincontrare tutti i nostri player, cioè gli agricoltori, i contotersisti, gli importatori, i distributori e fare vedere cosa abbiamo sviluppato in questi ultimi anni in cui la pandemia ci ha chiuso nelle nostre fabbriche. Tante le aziende pugliesi presenti alla manifestazione che stanno partecipando al rilancio del settore. In un anno in cui il mercato sta crescendo con dei ritmi molto importanti. Vi do solo alcune cifre. Un mercato italiano che vede un settore dei trattori, matricolazioni sui trattori, cresce da un 45-50% nei primi nove mesi e un export che cresce di oltre il 25%. Abbiamo sviluppato molte tecnologie di agricoltura 4.0, di robotica, di irrigazione, per andare incontro a quelli che sono i dettami della comunità europea ma internazionale di un'agricoltura sempre più sostenibile.